Ciao a tutti dalla Mente tra le Pagine e benvenuti in questo nuovo video in cui vi ho portato un personaggio molto interessante all'interno dell'universo di Batman, ovvero il personaggio di due facce. Un personaggio che presenta una psicologia veramente straordinaria, poiché è dotata di numerose sfaccettature. Tuttavia, prima di iniziare la nostra analisi psicologica su questo personaggio straordinario, è sempre bene fare le nostre solite due premesse. Per prima cosa, è bene dire che le mie analisi sono analisi psicologiche che si rivolgono a personaggi immaginari, quali personaggi dei film, libri, fumetti, ma anche dei videogiochi. Nulla hanno a che fare, nulla devono avere a che fare con analisi psicologiche, né tanto meno psicoterapeutiche, che si rivolgono a persone reali. Seconda cosa, se non conoscete questo personaggio, ovvero il personaggio di due facce, vi invito prima a guardare gli episodi di Batman o a leggere i fumetti in cui compare, prima di proseguire col video. Detto questo, possiamo iniziare assieme la nostra analisi psicologica. La prima cosa da dire, la prima cosa che possiamo subito notare in due facce, è la sua personalità divisa, ovvero due facce presenta una personalità divisa in due parti distinte, rappresentate dal suo lato buono, ovvero Harvey Dent, e dal suo lato malvagio, ovvero Harvey il cattivo, conosciuto meglio come due facce. Questo simboleggia la lotta interna tra il bene e il male, che si manifesta nella sua psiche, e che è ben evidenziata anche dal suo corpo e dal suo aspetto allo stesso modo. Ciò ci denota una personalità indecisa, frammentata e anche tormentata, che ha riscontrato difficoltà durante la sua formazione. La sua natura duale e le sue azioni guidate dal lancio della moneta, che ha proprio due facce come lui, e a cui tra l'altro due facce è maniacalmente legato, non può separarsene, mettono in evidenza la complessità della sua mente, e la sua lotta interiore è costante. L'aspetto di due facce, con il suo volto metà sfigurato, rappresenta visivamente la divisione e la cicatrice emotiva che lo tormenta. Il personaggio di due facce mostra caratteristiche bipolari, passando da momenti di estrema bontà e moralità a momenti di estrema violenza e crudeltà. Questa alternanza di stati d'animo può essere attribuita ad un disturbo bipolare, in cui il soggetto passa da stati di quiete, euforia, serenità, a stati di profonda tristezza, disperazione ed esolazione. Tutto ciò, ovvero il susseguir scontinuo di questi stati d'animo, può avvenire in maniera estremamente rapida. La personalità di due facce è spesso associata ad un trauma infantile o a traumi infantili, anche se le origini esatte di tali traumi possono variare a seconda delle interpretazioni nei fumetti, nelle serie animate e nei film. Mentre non disponiamo di una precisione assoluta riguardo i traumi specifici che hanno scatenato il suo sviluppo, è evidente che tali eventi traumatici hanno influenzato in modo significativo la formazione della sua personalità. Una possibile ipotesi è che questi traumi siano stati causati da un genitore estremamente violento, come ad esempio un padre con problemi di alcolismo, il quale avrebbe contribuito alla frammentazione della sua personalità. Tuttavia è importante notare che la personalità di due facce è amplificata a livello mediatico, al fine di renderlo un personaggio più intrigante e coinvolgente per il pubblico, e che sconvolgimenti così estremizzati della personalità nella realtà sono molto, molto rari se non impossibili. Due facce è profondamente coinvolto nella dualità morale e si affida spesso al lancio della moneta per prendere decisioni. Questo spettro del suo personaggio riflette una lotta interna tra il suo desiderio di giustizia e il suo istinto distruttivo. La sua ossessione per la dualità morale può essere interpretata dalla luce della psicodinamica, in particolare attraverso la teoria delle pulsioni. Due facce manifestano a pulsione di vita, rappresentata dal suo desiderio di giustizia, amore e verità, e allo stesso tempo una pulsione di morte, rappresentata dal suo lato distruttivo, ovvero Thanatos. Queste due pulsioni sono in costante conflitto tra di loro, contribuendo alla sua continua lotta interiore. Nel personaggio di due facce vediamo un'attenzione molto forte su se stesso e sulla sua immagine. È ossessionato dal modo in cui appare diviso e dal potere di influenzare gli altri. Tanto è vero che si compra e indossa unicamente abiti divisi a metà, con colori e motivi differenti da un lato all'altro. Questo potrebbe derivare dalla sua voglia di compensare la sua sfigurazione fisica, cercando di ottenere un senso di potere e controllo sulla sua identità. In sostanza, è molto concentrato su se stesso e su come gli altri lo percepiscono. La doppia natura di due facce rende due facce stesso un personaggio emotivamente solo. Le relazioni che ha con le altre persone possono essere estremamente problematiche a causa della sua doppia natura, che ha già causato la rottura di legami estremamente significativi che aveva nella sua vita. Le persone possono essere spaventate dai suoi comportamenti imprevedibili e forse, soprattutto, possono essere spaventate dalla sua ambivalenza morale. Ciò, in qualche modo, può renderlo un personaggio ancora più solo ed alienato, peggiorando la sua già instabile condizione psicologica. Nonostante le sue azioni malvagie, due facce può provare un intenso senso di colpa e rimorso per le conseguenze delle sue azioni, in particolar modo considerando che per alcuni anni della sua vita si è abbattuto con tutte le sue forze per rispettare la legge e per farla rispettare. Anche se la personalità di Harvey il cattivo è molto più forte di lui, i sensi di colpa che può provare verso tutto ciò che fino a qualche anno prima aveva difeso possono essere molto pesanti da sopportare e, in qualche modo, possono spingerlo ad allontanarsi dalla sua parte malvagia o a cercare una cura concreta per poter riuscire ad averla meglio. Nonostante il suo desiderio di controllo, due facce può sperimentare una profonda sensazione di impotenza di fronte alla sua stessa mente frammentata e alla sua incapacità di controllare le conseguenze delle sue azioni. Questa situazione di impotenza costante può spingerlo a sperimentare frequenti episodi di stress, frustrazione, depressione, ma anche di rassegnazione di fronte al suo senso di impossibilità nel cambiare la sua vita. Inoltre, il dolore psicologico potrebbe essere somatizzato nel corpo, generando con l'andare del tempo problemi di salute molto seri. L'elemento distintivo della sua impotenza, tuttavia, rimane il lancio della moneta. L'affidare la sua vita ad una moneta, quindi al caso, senza prendersi le responsabilità delle sue azioni e scelte, portano Arbei a vivere la sua vita in modo passivo, da spettatore impotente e rassegnato di fronte al verificarsi degli eventi e alle decisioni della sua moneta. Oggetto, tra l'altro, divinizzato e a cui delega ogni forma di potere e di decisione. Soluzioni? La cura migliore per Arbei sarebbe il non isolarsi, poiché l'isolamento, sia fisico che emotivo, peggiora notevolmente la sua condizione. Ideale sarebbe il riallacciare rapporti con persone positive, con le quali tali rapporti sono stati rotti, ad esempio con Bruce Wayne. Fondamentale per Arbei sarebbe il trovare un terapeuta, ottima nel suo caso può rivelarsi la terapia dell'ipnosi regressiva, la psicanalisi, ma anche la psicologia analogica, che si incentra in particolar modo sulla gestione delle emozioni e sul superamento di quelle dolorose. È necessario che Arbei riesca ad integrare le sue due parti e che risolva il trauma barra i traumi originari che hanno causato questa scissione. L'evitare un percorso terapeutico e di supporto non solo allontanano il personaggio dalla soluzione, ma spingono ancora di più il personaggio stesso nella voragine della sua sofferenza. Bene, noi siamo arrivati alla fine dell'analisi di questo personaggio straordinario presente nell'universo di Batman. Io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me fino alla fine del video. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a condividere il video con altri appassionati di psicologia dei personaggi immaginari. Vi invito inoltre a scrivere nei commenti quali altri personaggi dell'universo di Batman vi piacerebbe che portassi sul canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un caro saluto dalla mente tra le pagine. Ciao e alla prossima. Ciao!